Lo scorso anno a Bergamo fu la prestazione probabilmente peggiore stagionale, ora il Teramo vuole far vedere che l'aria è decisamente cambiata. Domani alle 14.30 allo stadio Atleti Azzurri d'Italia, la squadra di Asta sfida l'Albino Leffe. Per quanto riguarda la formazione ci sono stati problemi in settimana per Caidi e Amadio che quasi certamente partiranno dalla panchina. Due o tre cambi, dice Asta, sono in preventivo, ho tenuto conto che Sumare è fuori dai giochi. Sto pensando a due o tre eventualmente, ma non sono novità assolutamente, di cambiamenti in base a quello che ho visto in settimana. È stata una settimana particolare per tre o quattro giocatori, l'avete visto anche voi, lo sapete anche voi, che non si sono allenati completamente, chi ha incominciato solo ieri, chi solo giovedì a parte e quindi questo devo mettere in considerazione della gara di domani. È dovuto anche al minutaggio continuo di tanti giocatori che non hanno mai, magari sono un po' più stanchi, ci sta, ed altri che magari scalpitano al momento anche loro da sfruttare al meglio. L'Albino Leffe è una squadra compatta ed è anche una squadra che è stata assemblata nel tempo, si conoscono molto bene, dice Asta, dunque la squadra bergamasca va temuta sotto questo profilo. È un gruppo che stanno insieme da un anno e mezzo, quasi tutti, hanno cambiato pochi giocatori, già l'anno scorso arrivate i play-off, quest'anno l'hanno migliorata, l'allenatore è rimasto lo stesso, facendo un gran lavoro da quando è arrivato, e quindi squadra compatta, squadra che ha degli automatismi veramente importanti e quindi è quello che mi preoccupa, più dell'avversario di per sé, che può essere forte o meno forte. Non siamo una squadra di palleggiatori, dice Asta, e allora il Teramo deve migliorare in quelle che sono le caratteristiche principali, recupero palla e ripartenza. Siamo una squadra di corsa, una squadra che ruba palla e riparte, una squadra sulla seconda palla, squadra che verticalizza in fretta, allora potremmo dire la nostra. Se vogliamo pensare di essere dei palleggiatori, abbiamo un po' di fatica, ma queste non sono dei difetti, sono le caratteristiche di questa squadra che sapevamo che ci hanno portato a fare di ottimi risultati finora e noi dobbiamo pensare di essere quelli.